Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentrovati con il consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Sabato 17 ottobre, a Colsate, presso l'area del frutteto didattico, si terrà la prima edizione della Festa delle Mele, volta a promuovere una coltivazione ecosostenibile ed una sana alimentazione. L'apertura della manifestazione sarà alle ore 10 con la presentazione del frutteto, presenza inoltre anche di produttori locali con assaggi e vendita di prodotti tipici. Continuano gli appuntamenti con il Festival Italiano dei narratori Presente Prossimo. Sabato 17 ottobre, alle F, alle ore 18, presso l'auditorium Pezzoli, vi sarà l'incontro con l'autore Maurizio Torchio, presentato da Romano De Marco. Maggiori informazioni le potete trovare sul sito www.presenteprossimo.it. Domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 22, il Centro Storico di Rovetta si vestirà d'autunno, in occasione della Festa dell'autunno e del raccolto. Fattoria didattica, giochi, musica, mostre con mercato di prodotti tipici e punti di ristoro per degustare prodotti a chilometro zero. La manifestazione avrà luogo presso il Centro Storico del Paese. Sempre domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 13.30, a Villadogna si terrà la gara Triathlon prima che il Fiocche, una staffetta cronometro a squadre. In contemporanea, nel pomeriggio, sarà organizzata anche la classica castagnata. Le iscrizioni alla gara saranno possibili a partire dalle ore 13.30. Nella giornata di domenica 18 ottobre vi ricordiamo inoltre tre appuntamenti per coloro che amano le castagne. A Parre, dalle ore 14, castagnata nell'antico Borgo di Cossaglio, organizzato dal gruppo Folk Lampiusa e dagli amici di Cossaglio. A Piario, invece, sempre nel pomeriggio, appuntamento con la gara Schias, dove una coppia di persone con ai piedi un paio di scie artigianali si misurerà contro il tempo e contro altre tre coppie. In gara è mozzafiato. La manifestazione avrà luogo presso il campo sportivo. Successivamente, vi sarà un pomeriggio all'insegna del divertimento e dei profumi d'autunno, con vin brulee e castagne per tutti. Infine, a Valbundione, vi sarà il ritrovo in quota presso l'osservatorio di Maslana, per un'allegra castagnata in compagnia prima dell'arrivo della stagione invernale. Il rientro per la manifestazione è previsto nel tardo pomeriggio. Infine, vi ricordo gli appuntamenti con i percorsi turistici e culturali della stagione autunnale. Sabato 17 ottobre, a Rovetta, vi sarà il percorso turistico e culturale, la parrocchia di tutti i santi e l'oratorio dei disciplini, alla scoperta di due edifici religiosi molto interessanti all'interno del centro storico del paese. Ritrove alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Rovetta. Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria. Domenica 18 ottobre, invece, ad Ardesio e da Parre, vi sarà l'open day alla scoperta dei musei dell'Alta Valseriana. A Parre, Antiquarium e Parco archeologico saranno aperti a partire dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, mentre ad Ardesio, Meta, museo archeologico dell'Alta Valseriana, sarà aperto dalle ore 16 alle ore 18. L'ultimo appuntamento che vi ricordo è quello di domenica 18 ottobre ad Onore, con il percorso turistico-culturale Lanur Mai Visto, un itinerario storico-artistico guidato all'interno del centro storico di Onore, nelle contrade di Pozzo, Onore e Dangel, con visita anche alla chiesa di Santa Maria Assunta. Il ritrovo è sempre alle ore 15.30 presso la piazza Pozzo. Prenotazione anche qui obbligatoria. E con oggi è tutto, io vi do appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo il nostro sito www.valseriana.eu. Grazie e buona serata. Promoserio Eventi Eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e in Valle di Scalpe